Ciao ragazzi, allora nuovo video, torniamo con un nuovo video riguardante una limited edition Lidl che ho trovato proprio ieri mattina che sono stata da Lidl per fare un pochettino di spesa di questa nuova linea naturalmente marchiata Sien non ne avevo mai sentito parlare e sinceramente non l'avevo mai vista neanche appunto nel mio punto vendita Lidl più vicino si chiama nello specifico Hydro Expert ed è composta totalmente da 6 prodotti tutti dedicati alla skin care o comunque alla cura della pelle e del viso in primis abbiamo due creme viso e sono nello specifico la Aqua Gel crema viso 24 ore idratante per pelli normali la confezione contiene 50 ml di prodotto e ha un pao di 12 mesi ragazzi purtroppo questa crema non ha un buon inci perché fra i primi ingredienti dopo l'acqua contiene dimeticone la seconda crema viso invece è la crema gel 24 ore adatta per lo più a pelli secche anche questa confezione contiene 50 ml di prodotto e ha un pao di 12 mesi in questo caso non è una crema in gel a base d'acqua in quanto dopo il dimeticone infatti non ha un buon inci contiene anche glicerina ma il prodotto che volevo assolutamente segnalarvi è questo qui ossia un ziero Yaluron Gel with Double Yaluronic Complex per tutti i tipi di pelle questo praticamente è un ziero che contiene 30 ml di prodotto ha un pao di 12 mesi e ragazze è fantastico ha un inci ottimo in quanto è a base soprattutto di acido yaluronico che si trova nella seconda posizione dell'inci quindi è davvero molto concentrato e sinceramente non vedevo l'ora di provarlo la confezione interna è questa quindi come vedete è completamente trasparente io già sono qui l'ho applicato 4 volte 3 volte ieri e una volta oggi e va applicato appunto la mattina e la sera qui è specificato 2 volte al giorno come siero viso quindi come base prima di applicare la propria crema viso preferita devo dirvi che già la prima applicazione sulla mia pelle secca il risultato è stato avere una pelle ancora più secca proprio perché essendo un ziero non basta da solo per idratare la pelle ma è semplicemente un trattamento con una concentrazione altissima di acido yaluronico che come sapete è un tocca sana per le imperfezioni, per le rughe e appunto per tutta la pelle del viso io l'ho applicata anche sul collo e devo dirvi che appunto inizialmente ho avuto questa sensazione di pelle secca ma se successivamente applicate la vostra crema crema viso preferita naturalmente io ne utilizzo una 100% biologica e naturale la sensazione è di pelle rinata ora voglio assolutamente terminare tutta la confezione vedere appunto se c'è un miglioramento nella mia pelle soprattutto qui nella zona diciamo delle guance ho un bel po' di imperfezioni e vediamo appunto se veramente l'acido yaluronico mi aiuterà appunto anche in questo spero che mi aiuterà anche con le mie occhiaie da panda fatemi sapere anche voi nei commenti se avete già provato questo siero se vi siete trovate bene o meno comunque tutta la linea ha un prezzo tra 3 e 4 euro questo nello specifico mi sembra venga o 3,99 euro o 3,49 euro per la pulizia della pelle troviamo ancora tre prodotti e sono l'acqua micellare per rinfrescare e pulire la pelle che ragazze è un altro prodotto che ha un inci abbastanza buono e anche questo vi consiglio se siete curiosi di provarlo la confezione contiene 200 ml di prodotto e è un'acqua micellare con il dispenser classico ancora per la pulizia della pelle abbiamo il makeup remover però appunto è più un latte detergente e questo ragazze devo dirvi che non ha un inci proprio ottimo perché contiene butilene e glicol in seconda posizione stessa cosa il cleansing gel quindi per farvi capire è un latte detergente però in gel contiene 200 ml di prodotto e questo ragazzi contiene sodio lauret sulfate fra i primi ingredienti quindi non vi consiglio tantissimo di provarlo per me i prodotti top della linea comunque sono il siero all'acido ialuronico perché appunto ha una grandissima concentrazione di esso e l'acqua micellare che ha un inci abbastanza buono comunque ragazzi con questo è tutto vi mando come sempre un bacio grande ricordatevi di farmi sapere se avete acquistato questi prodotti se vi siete trovate bene o meno lasciatemi un bel pollice in su di supporto iscrivetevi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao